ecco la nuova normalità bisogna inserire la mascherina ci hanno detto che è necessario e noi lo facciamo bene, vado a fare la spesa ci hanno detto che dobbiamo mettere la maschera e noi mettiamo la maschera poi domani ci diranno che dobbiamo mettere il casco e io sono già pronto poi forse ci diranno che dobbiamo mettere la maschera da su perché il virus si polazza a un metro e noi ci attenuiamo le regole bravi cittadini in fondo siamo in una guerra fase 2 peace